come Pixies, Breeders, ma loro erano femmine, erano, come dire, alternative, tra virgolette. Alla voce c'era la mia adorata Cristina Ricci e la caffè che ballavamo in discoteca si intitolava, si intitolava, Devil's Root. Alla voce c'era la mia adorata Cristina Ricci e la caffè che ballavamo in discoteca. Alla voce c'era la mia adorata Cristina Ricci e la caffè che ballavamo in discoteca. Alla voce c'era la mia adorata Cristina Ricci-ma, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.